Un cavaliere errante donna che prova a sconviggere il male, lottando contro un governatore del regno dei folli che vuol trasformare il casato del pellame in drasco, certo che possedere le persone fosse l'unico modo possibile per arricchirsi velocemente e senza rendere conto a nessuno. Nel libro secondo, sapere Aude, Ak diventa re del drasco delle scienze. Affiancata da una saggia strega di nome Mercuria e quattro vari diefidati cavalieri, Ak trasforma il suo drasco in un luogo senza caste e privilegi, dove si ama e si prega liberamente, si studia e si lavora con gioia, ridando lentamente vita al culto degli dei pagani. Questa volta lotterà contro i giusti, il potente organismo religioso sovranazionale a capo dei draschi. Il viaggio di Ak è incessante ed eroico, tentativo di spezzare con le proprie mani le magie dell'inconscio collettivo, intriso di dolore per i pregiudizi e le ingiustizie sociali sedimentatesi nei secoli, ma c'è solo un modo per riuscire nell'impresa, ed è scritto in fogli di pergamena custoditi in un prezioso scrigno di faggio rosso. Adesso vi racconto dell'autrice e voglio chiarire un attimo. Ak, va bene? Intanto Cagar Lane mi risponde sulla pronuncia di questo cavaliere che di fatto è una donna. Ragazzi, questo è un romanzo meraviglioso e i due libri sono qui dentro, quindi il primo e il secondo libro sono tutti e due qui. Agar Lane si presenta così Sono un ingegnere elettronico e ho conseguito un master in business strategy. Per molti anni ho lavorato come manager in importanti multinazionali del settore delle telecomunicazioni prima e alimentare poi, con ruolo di responsabile dell'assistenza tecnica, IT manager ed IP manager. Le mie specialità sono il business process re-engineering e la progettazione di basi dati complesse per applicazioni industriali. Sono idealista e vivo felicemente da 15 anni con un gatto di nome Pante. Sono curiosa, fiduciosa nella vita, nel prossimo e i vizi e le virtù di cui vado più fiera sono la coerenza, l'onestà e la schiettezza. Amo scrivere, vedere documentari, fare trekking e mi vanto di fare gli arancini più buoni del mondo. Come Rocky Balboa finisco spesso e non volentieri al tappeto, ma mi rialzo ogni volta dicendo non ho sentito il suono della campana. Cavalierac è il mio primo romanzo che attualmente sto traducendo in spagnolo. Il mio motto, ereditato da Walt Disney, è se puoi sognarlo, puoi farlo. E adesso entriamo nel fantastico mondo. Ho deciso di fare le prime pagine perché ho avuto la sensazione che ai lettori piacerà entrare come sono entrata io in questa storia dall'inizio e ho lasciato correre fino a dove ho ritenuto di dover arrivare, anche per una questione di tempi. Io non ho la più pallida idea di che ora sia. Ma adesso non mi importa e spero rimarrete con me perché vale davvero la pena ascoltare Cavalierac di Agar Lane. Prologo 20 anni prima, anno 1000 e 1200 Il popolo del Regno delle Possibilità era raccolto attorno al castello e applaudiva festante l'imminente arrivo tra loro della principessa Marlem. Il bosco emetteva i suoni dolci dell'arpa e della lira, i monti quelli della cornamuse e della tromba, i laghi quelli dell'organo e del clavicembalo. Le notte soavi e profumate si sparsero ovunque fino al lontano Regno dei Giganti, l'ultimo regno conosciuto dagli uomini. All'improvviso fu silenzio. È nata Marlem, esclamò la fata chiamata a darne annuncio al popolo. Il cielo si tinse di ricolore arcobaleno e i tamburi annunciarono l'inizio della grande festa in onore della principessa. La regina delle fate prese in braccio la bimba e le parlò. Questa notte la stella più bella del firmamento si accenderà per te. Chi non avrà paura di prenderla e poi lasciarla andare è l'essere migliore della terra dei saggi, che un giorno incontrerà il tuo sguardo e si innamorerà perdutamente di te. Huck aveva sette anni. Quella sera era andata a pescare. Se ne stava seduta su uno scoglio con le gambe pensoloni sul mare e accanto a sé il suo gatto, un barattolo pieno di vermi e un sacchetto di caramelle già mangiate da tempo. Cantava una canzoncina da lei inventata al momento. Andrò a pescare in questo mare pieno di scoglie e conchiglie bianche e alle fatine lascio le stelle se mi regalano le caramelle. Guardò il suo gatto e riprese a canticchiare. E se volete che mi innamoro voglio i suoi occhi color dell'oro. Quella notte la stella fatata fu vista da centinaia di occhi. Una voce silenziosa sussurrava nel cuore di chi la vedeva. Avrai felicità, fortuna, ricchezza e la creatura più bella del reame ti amerà per sempre se mi prenderai e mi terrai con te. Ma ogni volta che la stella veniva presa e chiusa in un barattolo, come per magia, spariva e tornava a volare alta nel cielo. Era quasi l'alba quando la stella giunse da H e anche lei udì le parole magiche nel suo cuore. E la creatura più bella del reame ti amerà per sempre se mi prenderai e mi terrai con te. Ac guardò a lungo in silenzio la stella, poi la fece salire sul palmo della sua mano e le parlò. Non saprei dove metterti, stellina cara. Nel mio barattolo ci sono sole vermi per pescare, le disse accarezzandola come fosse un gatto. La ricchezza non mi interessa e nemmeno l'amore della creatura più bella del reame. Se volete che mi innamori, i suoi occhi devono essere color dell'oro, strillò divertita. Mi lasci dunque andar via rifiutando i miei doni? Certo, stellina cara, ripete ferma H. La stella spiccò il volo e H la seguì con lo sguardo mentre lei diventava un puntino luminoso sempre più piccolo. Il suo cuore però la udiva ancora. H, H, se volete che mi innamori, i suoi occhi devono essere color dell'oro? Sarei servita. Rise fragorosamente la stella volteggiando nel cielo a formare una grande lettera prima di sparire. Era la lettera M. H, era un cavaliere errante, nata e cresciuta nella terra dei saggi. Per anni aveva vissuto nel saggio regno delle scienze fino al giorno in cui la gigantesca nube scura lo inghiottì e lei dovette trasferirsi altrove. Andò a vivere nel regno dei folli, suddiviso in casati, ed entrò a far parte del ricco casato del legno. Un giorno il governatore fece incendiare tutti gli alberi più pregiati che aveva per far spazio a nuovi laghetti e immense distese di prati di margheritine gialle. E Hach non riuscì ad impedire quel folle gesto. Il casato del legno fece così la stessa fine del regno delle scienze, inghiottito dalla nube nera, e Hach montò a cavallo e ripresa ad errare. Restò nel regno dei fogli e si spostò nel vicino casato del pellame, che tutto sembrava meno che una folle terra. Quel giorno Hach era nei magazzini a sistemare le mappe di viaggio degli spedizionieri, quando vide arrivare tutta trafelata Agnese, la custode del casato. Nel salone degli scambi c'è la principessa Marlem che vi sta aspettando. Correte da lei, Hach! ansimò Agnese. Il cavaliere si voltò a guardarla sorridente. Non ama le usanze la principessa Marlem, che non invia un ambasciatore a comunicarmi il giorno del suo arrivo? Sta male che debba correre da lei? rispose allegra Hach. Il casato del pellame aveva intessuto da poco dei nuovi scambi commerciali col regno delle possibilità, e Hach sapeva che la principessa Marlem seguiva in prima persona gli affari del proprio regno. Il cavaliere finì di sistemare le mappe di viaggio degli spedizionieri, e poi si diresse canticchiando al salone degli scambi. Oh, principessa, non ti arrabbiare, ma anche tu dovrai aspettare. Guarda su in cielo e cerca una stella, se non aspetti, non puoi vederla. Hach aprì la porta e vide Marlem in piedi accanto a una finestra, con lo sguardo fisso al cielo. Per tutte le fate di tutti i regni, ma sta davvero cercando una stella? Pensò divertita. Non puoi vederla. La principessa indossava un abito da cavallerizza, aveva la postura di un comandante dell'esercito, e teneva la mano stretta sul pomo della spada. Udito il rumore della porta richiudersi alle spalle di Hach, Marlem si voltò di scatto e si incamminò lenta verso di lei, fissandola negli occhi senza proferire parola. Gli occhi di Marlem erano colore dell'oro, come quelli dei felini, e in pochi attimi cambiarono per sempre la mente e il cuore di Hach. Di Marlem non è dato sapere cosa pensò in quel momento, come di Hach non si può descrivere con tutte le parole del mondo che cosa provò. Il cavaliere srotolò una pergamena sul tavolo senza distogliere neanche per un istante lo sguardo da Marlem, che affisse il suo sigillo sul patto stilato col governatore del casato, sorrise, e se ne andò senza voltarsi. Hach la seguì con lo sguardo, mentre nel suo cuore risuonava la stessa magia che le fate avevano creato il giorno in cui era nata Marlem. Vide le stelle danzare in cielo e temete di stare impazzendo. Non si possono vedere, si deve aspettare la notte per vederle, pensò impaurita. Ma lei le vedeva, le vedeva davvero. A occhi aperti o chiusi, Hach era ormai preda del sentimento dell'amore. Sentiva il giorno e la notte mescolarsi insieme e così le stagioni, le sue mani, sradicare l'universo e ordinargli di avere senso solo affino a che sarebbe esistita Marlem. L'eco di una risata fragorosa le risuonò nelle orecchie. Il sottofondo la risacca del mare, il miagolio di un gatto, il sale sulla pelle e uno strano sfregolio ovunque, come di carte di caramelle. Il regno dei felini era circondato da rocce d'argile ed era governato da oltre cento anni dal re Pante. Pante concedeva pochissime udienze ai nobili e solo in un breve periodo dell'anno, a fine inverno. Il re aveva sperimentato molti anni prima l'utilizzo del lupolo nella produzione della birra, quando ancora tutti per aromatizzarla usavano le erbe, le spezie, le bacche, le resine, facendo del regno dei felini il miglior produttore di birra di tutta la valle. Nessuno doveva vedere le sue piantagioni di lupolo per nessun motivo, perché da quel segreto, per Pante, dipendeva il benessere del suo popolo. Huck sapeva che quel giorno non sarebbe stata ricevuta dal re, perché era a primavera inoltrata e lei non era una nobile. Pante, così, giunta alle porte del regno, si arrampicò sulle rocce e si lanciò nel primo pertugio che vide. Finì dritta tra le braccia di Pante, che era sdraiato a sonnecchiare su un trespolo con in mano un boccale di birra mezzo pieno. «Sono cavalier Huck del casato del Pellame», si presentò Huck. Pante sgranò gli occhi, le diede una zampata e la scaraventò ancora più giù, tra le braccia, questa volta di una grossa tigre famelica, che sfoderò un ruggito così potente da far rimbombare l'aria e tremare il cuore di Huck. «Fermati, Roi! Questo cavaliere ha il sangue pazzo, non lo senti? Meglio evitare!» ordinò Pante alla tigre saltando giù dal trespolo. La tigre ruggì ancora, poi mollò la preda a terra e si allontanò in silenzio. «Ma che ci fate qui, cavalier Huck? Il casato del Pellame nel regno dei Folli, siete già impazziti tutti quanti? O che cosa?» domandò il re girandole attorno e squadrandola dalla testa ai piedi. Huck lo seguì con lo sguardo finché il leone si fermò, quindi spiegò il motivo della sua visita. «Sono qui per sapere perché mi avete fatto innamorare di una donna con gli occhi di felino che non avrò mai. Voglio sapere che offesa ho arrecato al regno dei felini e por di rimedio subito!» Il re la guardò pensando in corso cosa fare. Ucciderla, cacciarla o darle ascolto. «Venite, folle cavalier Huck, andiamo a parlare in un posto più tranquillo», decise infine il re. «È quasi ora di pranzo per noi e voi avete sbagliato regno, orario e modi di fare. Sbagliate ancora e verrete in sala da pranzo con noi», ruggì il leone facendo le strade fuori dalla stanza. La casa panca era legata con delle funi a metà altezza tra due tquerce, con due balzi Pante la raggiunse e vi si sdraiò sopra. «Chi è la donna che ami?» «Marlem». «Marlem», rispose Huck iniziando l'arrampicata su uno dei due alberi. «Ma non l'avrò mai». Il re fece un grosso sbadiglio e chiuso gli occhi. «Marlem». «Sì, ne ho sentito parlare. Prode, comandante, abile e regnante di giorno, dama e irresistibile la sera», la definì Pante. Huck aggrottò le sopracciglia. L'ho vista solo una volta. Indossava abiti da cavallerizza e teneva sempre una mano sul pomo della spada. «Non riesco a immaginarla vestita da donna», confessò il cavaliere. «E nemmeno innamorata di me, se è per questo». «Marlem è la principessa del regno delle possibilità», ribatté deciso Pante. «Il regno dove tutto è possibile, anche innamorarsi di una donna scriteriate senza senso del pericolo come voi». «Non mi amerà mai», scosse piano la testa Huck. «Un tempo appartenevo anch'io alla terra dei saggi, vivevo nel regno delle scienze», prese a raccontare il cavaliere. «Ma pensavo che tutto fosse comunque possibile in ogni regno e io volevo vedere tutta la contea e anche cosa c'era dopo il regno dei giganti, oltre ai confini del mondo». «Abbuzzò un sorriso triste. La regina delle fate mi disse di non lasciare la terra dei saggi, perché nessuno può abbandonare il proprio regno senza perdere se stesso. Sbraitava che nessuna donna del regno delle possibilità mi avrebbe mai amato se fossi andata via da lì». Lo sguardo di Huck si incupì. «Non so che fare per essere amata da Marlem», confessò a Digetto. Il re dei felini aprì un occhio. «La principessa Marlem ha gli occhi di felino per volere della regina delle fate. Se vuoi che ti ami, è lei che devi convincere». «Ley chi?» lo incalzò Huck. «La regina delle fate. Di chi stiamo parlando?» «Di Marlem! È di Marlem che stiamo parlando!» lo corresse infastidita Huck. «Chi è la regina delle fate? Avevo accettato che nessuna donna del regno delle possibilità mi avrebbe mai amato. Ma perché farmi innamorare di una di loro se non l'avrò mai?» «Anche questo devi chiederlo a lei». «A lei chi?» ribatte Huck. «A la regina delle fate!» sbarò gli occhi il leone. «È di lei che stiamo parlando ora, o no? Della donna che amo da oltre cent'anni!» aggiunse con un nodo stretto in gola. Huck si voltò di scatto a guardarlo sbigottita. Non credeva ai suoi occhi e alle sue orecchie. «Amate quell'arrogante impicciona di una regina delle fate?» domandò con dolcezza il leone poggiando una mano sulla sua testa. pensò fra Sese e poi sbottò. «La regina delle fate non ama nessuno!» «L'amore è il dono più grande che si possa fare a qualcuno, cavaliere Huck, e i doni non contemplano di dover essere ricambiati», le spiegò il re saltando giù dalla casa panca. Huck fu accompagnata a due pantera all'uscita del regno e mentre camminava ascoltava le parole di Pante alle sue spalle. «Lotta, lotta per Marlen, se l'ami così tanto. Sei entrata nel mio regno senza permesso a far domande. Sfida la regina delle fate, Orea, e l'intera contea se serve. Vai oltre il regno dei giganti se ti verrà richiesto, ma non permettere mai a nessuno di decidere per te chi puoi amare». «L'amore, la regina delle fate, e non ci sei che che non ci sei». «L'amore va a nessuno di due panini che aveva anni, ma non ci sei e non ci sei. «L'amore è un paese che non ci sei!» «L'amore è un paese che non ci sei che non ci sei ma non ci sei».